Ciao, 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 buongiorno a tutti. Oggi è il 10 di marzo e sono sulla Brevini. Sono sempre le stesse strade che farci. Voglio farvene vedere qualche pezzetto, no? Ma anche sul volante, Monica! Effettivamente le strade sono sempre quelle. Mi dispiace. Troppo. Nella vita non si può fare sempre quello che si vuole. Cioè, da una parte faccio quello che voglio fare. Cioè, guido il camera. Infatti, una delle mie canzoni preferite è quella di Giovanni Antti che dice «Sono un ragazzo sovvortunato perché mi hanno regalato un sogno». E anche a me avevano regalato un sogno, quello di diventare camionista. E l'ho realizzato. E niente, ho iniziato il progetto tante volte. Negli anni Ottanta, facendo il Sud Italia, facevamo un lato su, un lato su, davanti e indietro, in un cuore sul camion. Facciamo Campania, Puglia, un po' con la Sicilia, devo dire, veramente, poco, poco, poco. Più che altro Puglia e Campania, facevamo Napoli, Salerno, quelle zone lì e Napoli a tutta, dall'inizio alla fine. Poi c'erano le re-miaggi anche in altre zone, Toscania, Puglia, Marche, Veneto. Insomma, diciamo che i primi dieci anni della mia carriera ho girato tutta Italia. Proprio altro sono andato anche in Svizzera. Pure in Germania, una volta. Il mio estero lontano è un viaggio in Germania, negli anni romani. Ah, sopra Polonia, Creffeld. Vabbè. Ma devo dire che l'Italia mi è sempre piaciuta. Nell'estero l'ho girato con il mio furgone durante le vacanze. Alla fine ogni volta che rientravo in Italia, tiravo un sospiro di sogni, che è l'Italia. L'Italia è l'Italia e non c'è niente da fare. Io ho sempre amato di più l'Italia. Mi è sempre piaciuta di più. Va bene. Ma non era di questo che volevo parlare. L'altro giorno era l'8 marzo, festa internazionale dei diritti delle donne. E in occasione dell'8 marzo in Italia, ma non solo in Italia, vengono spesso ricordate le donne camioniste perché fanno un mestiere che comunque viene tutt'oggi considerato maschile. Per me è normale perché avendolo fatto per tutta la vita sembra una cosa normale. Però effettivamente se io mi guardo in giro, anche quando vado nei posti, difficilmente trovo una collega. C'è stato un periodo, a cavallo tra gli anni 90, metà anni 90 fino ai primi del 2000, in cui ne trovo spesso di colleghe. Adesso non lo so. Sarà che non usando più il baracchino magari non si sente neanche più le voci. Invece in quegli anni lì si parlava tanto anche al baracchino, quindi era facile. Magari non ti vedevi, però ti sentivi, ti salutavi, ti parlavi. E quindi secondo me invece i commentari stanno diminuendo in questi ultimi anni le donne che fanno questo mestiere. Così come stanno diminuendo i maschi, perché a quanto pare dicono tutti che c'è carenza di autisti, carenza di autisti. Allora, c'è carenza di autisti, però tanti ancora si rifiutano di assumere le donne. Attenzione. C'è chi è stata fortunata, ha fatto la patente e ha trovato subito un posto. C'è chi, che ne conosco, hanno fatto la patente e l'hanno messa nel cassetto perché non hanno mai, 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 mai trovato un'azienda disposta a dare fiducia. Stesso discorso che vale per i giovani, no? Ma dicono, ma ci chiedono un'esperienza, come facciamo a farla se nessuno ci fa provare la stessa cosa? Poi bisogna anche dire che tante volte quelle che sono riuscite a entrare nell'ambiente perché sono di famiglia, poi che siano figli di camionisti, mogli, sorelle, nipoti, insomma, avevano già qualcuno che faceva questo mestiere. Anche se non avevano l'azienda familiare, perché avevano già qualcuno, quindi venivano a avere qualche conoscenza, qualcosa, sono riuscite a entrare. Più difficile per una ragazza, una donna, perché vedo che, anzi, ultimamente ho visto qualcuna che tipo a 40 anni fa la patente e cercano lavoro perché era il sogno della loro vita, patrimonio finito, figli cresciuti, patente, e ha trovato posto sul camion, tanto di cappello perché non è semplice. E niente, sarebbe bello se fosse semplice, come dice, faccio la patente, faccio il CQC. Io non ho fatto il CQC, quello, io ho quello d'ufficio, la prima volta ce l'hanno dato, adesso lo sto rinnovando per la seconda volta, però quando ho fatto io la patente si faceva la patente, punto. e poi l'esperienza te la facevi per strada, adesso teoricamente fai il corso CQC che non so, 180 ore, quante sono, più, 8 ore di guida e tutto, ma alla fine non esci preparato per queste scuole, sicuramente. Puoi anche fare 20 ore di guida, ma 20 ore di guida, ragazzi, sono due giorni sul camion, no? Tre giorni, se tu puoi guidarne 9, 9 diciamo, due giorni e mezzo. Poi due viaggi in Toscana e il fatto, ma se io, cioè, all'inizio dovessi prendere, fare Varese-Firenze, Firenze-Varese, due volte di seguito, non ho imparato a guidare il camion. Pitto, quello intendo, cioè non sono sufficienti quelle ore di guida. Bisognerebbe che dopo il CQC ci fosse uno stage, un qualcosa presso un'azienda di trasporti, come fanno in Canada, in alcune nazioni, che ti mandano a fare sto stage. Ti affiancano un autista esperto, disposto a farlo, perché non tutti sono disposti a prendere un giovane in cabina, di guida a te, perché comunque uno è una responsabilità, e poi ti metti nelle sue mani, eh, occhio, perché non è semplice, uno dice, cavolo, io guido da 40 anni, non mi hai fatto un incidente, mi mettono su un giovane di fianco, io che ne so che questi siano effettivamente capaci. Sai, non è da tutti avere fiducia. E ricapisco, eh, anche perché più passano gli anni, più preferisci essere te al comando, e non cedere il volante a qualcuno. E quindi penso che questa cosa comunque ostacoli un po' l'ingresso nel mondo del lavoro, sia dei giovani che delle donne, perché siamo sempre lì. In più aggiungiamo che era, a differenza di una volta, in cui papà aveva il camion, io andavo con papà, e papà mi faceva guidare, e imparavo, non è stato il mio caso, ma tanti hanno imparato così, e così imparavi veramente, perché non passano ti pacchettava sulle mani, e lì c'era una bella formazione, anche perché ti insegnava anche come caricare, tutti i vari trucchi del mestiere, eccetera, eccetera. Adesso, una volta che apri la cronaca, camion o resciati di qua e di là, o può essere, la disgrazia ci sta sempre. Il malore, tutto quello che vuoi, però io resto dell'idea che un po' sia in perizia, non è che gli faccio una colpa, però immagino che se nessuno gli spiega le cose alle persone, sì, studi la teoria al CQC, la teoria, ti dicono, guarda, stai attento, un po' di cento, questo, qualcosa, ma se non lo sperimenti, fai danni poi, se nessuno te lo fa provare sul campo, nel momento in cui tu ti trovi sul campo, fai danni, poi aggiungiamoci la fretta cronica che hanno tutti, devi, carichi adesso, devi arrivare ieri, eh, scusate, le coordinate ieri e arrivi domani, eh, così dovrebbe essere. Non che carico oggi e la merce la volevi ieri, se la volevi ieri la ordinavi tre giorni prima. Ci facciamo tutti prendere da questa angoscia della fretta, delle ore di guida e il 4 d'ora è 45 minuti, e se ce la faccio, se non ce la faccio. Io resto convinta che chi fa le leggi nel mondo del trasporto non è mai salito su un camion e non ha una più pallida idea di che cosa vuol dire trovarsi al volante e trovarsi nelle ditte a dove caricare e scaricare, perché ci sono delle situazioni in cui tutto perfetto, ci puoi arrivare in i citofoni, venga dentro, apri, chiudi, scarichi, carichi, quello che fai, chiudi, i documenti sono pronti, fai la firma, prendi, te ne vai, ci metti il tempo che ci vuoi. Ma questo è il sogno di tutti i camionisti. La realtà, non dico al 90%, ma facciamo un 50%, non è così. Arrivi, citofoni, aspetti un attimo, c'è dentro un camion, quando esce lui, entra. E non esce, non esce. Capito? E già lì. Oppure quando vai nelle logistiche, che vai in portineria, mi raccomando, andateci sempre col gilet fuori, le scarpe antinfortunistiche, perché è capitato che tu vai in portineria, ti dico, se non hai sul gilet, io manco ti registro, capito? Ma io devo entrare dopo col camion. Cioè, qua sono in portineria, il gilet ce l'ho sul camion. Potrò tornare dietro, farmi 200 metri a piedi, se non di più, prendere il gilet, nel frattempo avevo registrato altri camion, e così ho perso anche posto. Cioè, non è giusto questo. Nel momento in cui entro, mi metto il gilet. Che poi, devi metterti il gilet, ok, non mi fai salire in ribalta. Cosa? Mi serve il gilet seduta in cabina, l'unica cosa che faccio è aprire le porte nel piazzale, nel piazzale, dove non c'è nessuno, perché i muletti non girano, perché loro scaricano solo in ribalta per i traspare. Quindi, anche se non c'è sul gilet, non cambia niente. Questi sono degli abusi di potere di alcuni punti, per fortuna, capita raramente, ma capita. Quindi, ogni volta che vado in una logistica, sempre il gilet, portafoglio con i documenti, una volta mi hanno detto, mi diceva in una fotografica, passaporto, 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 io ho detto, ma cosa vuoi? Passaporto, ah, ma sei italiana? Vabbè, siamo in Italia, e sono italiana. Ah, basta la carta d'identità? Ah, succede anche questo, vabbè, sempre in queste logistiche, con il passaporto, c'è, allora il passaporto, per entrare dentro la logistica, cioè, vabbè, di tutto, ma il passaporto, a quando me l'avevano chiesto, niente, dai, scherziamo un po'. quindi, tornando al discorso, comunque aziende, allora, uno, sono le logistiche, che comunque ti registri, e poi mettiti lì aspetto, ti danno il telefonino, quello che ti arriva il messaggio, o ti lascio il numero di telefono, ti telefonano, l'attesa può variare da due minuti, che è quasi impossibile, che tu, mi è capitato, è di arrivare al camion, che già mi chiamavano, a ore, 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 tre ore, quattro ore, cinque ore, sei ore, c'è chi è stato lì, anche fino al giorno dopo, purtroppo succede, se non sei prenotato, non ti scaricano, viene fuori di quei casini, vabbè, questo nelle logistiche, dei supernotati, nelle grandi aziende, alcune, anche lì, ci vuole la prenotazione, se non sei prenotato, non ti scaricano, e non ti caricano, non ti caricano, perché magari il tuo merce, non è pronto, però questo è difficile, che non capita, quel tipo di lavoro, che faccio io, non capita, mi è capitato, di trovare gente, quando andavo a Sossoferrato, un ragazzo, di una notte azienda, del sole che ride, che era lì da lunedì, era mercoledì, e non l'avevano ancora scaricato, perché lui era prenotato, per giovedì, questo ragazzo qua, era incavolatissimo, parlava italiano, tra l'altro, e ha detto, io gli do fuoco al camion, non ce la faccio più, e da lunedì che sono qua, e loro hanno un elenco, di camion da scaricare, quando ha finito di scaricarli tutti, se c'è tempo, ti scarichi, ma se no, no, e arrivavano a fine orario di lavoro, e lui restava lì fino al giorno dopo, fino al giorno dopo, ma lo scaricavano, lui era prenotato a giovedì, purtroppo, le cose sono così, poi ci sono, vabbè, aziende medio, piccole, in cui comunque tu arrivi, non aspetti tanto, magari c'è dentro un paio di motrici, un ubilico, aspetti il giusto, una mezz'oretta, un'ora, finiscono loro, che caricano te, cioè, prima di caricarti, o di scaricarti, delle volte hai su un bancale, ti scaricano anche al volo, dicono, ah, quello ce n'ha su 24, tu ne hai uno, già vieni qua, che te lo tiro giù, ti fermo la bolla e te ne vai, capitano anche le cose belle così, eh, questi sono i rovesci, della medaglia di questo lavoro, oppure vai, questo è un altro, di quei posti, dove si aspetta tante, quando vai, nelle logistiche, dove carichi il collettamento, allora, io ho fatto il collettamento, partendo dalla mia, di ditta, quindi, noi facevamo, la mattina, tipo fermi, no, iniziavi a lavorare, non so, alle 11, c'è qualche ritiro, al pomeriggio, poi partivi, facevi la linea, e ti fermavi a dormire, al deposito, scaricavi, carichi, facevi il giro, in modo di avere la pausa, poi là, però, partivi la sera, cioè nel senso, non è che io ho finito, di fare i ritiri alle 4, c'è a carico me ne vado, no, perché dovevano rientrare tutti, la merce veniva smistata, divisa, sulle varie linee, e si partiva, se ti andava bene, alle 6 di sera, sono le 7, le 8, anche più tardi, anche più tardi, più tardi, a volte molto, molto più tardi, e così, non ha, funziona così, quei due posti, ti lascio il posto, ecco, funziona così, devi aspettare che rientrano tutti, e via, passando il casetto, i puffi non fanno i 30 all'ora nel tele, mi sono passati via così, ahahahah, io faccio i 30 all'ora sempre, di tele, anche perché, se non ti si alza la svala, attento, allora ti fermi, e niente, comunque, questi problemi qua, nelle aziende, sono uguali, che tu sia uomo o don, sono gli stessi, cioè, alla fine, quelli che descrivono, io, ma questo è un lavoro da uomo, di patina, può esserlo, in alcuni settori, perché, effettivamente, ci sono magari dei posti, dove devi, comunque, metterci, falsa fisica, ripesi, ogni tanto, quando sono qua, faccio così, ma, in un sacco di posti, tu vai, apri le porte, se tu fai questi lavori di logistica, apri le porte, ti metti in ribalta, te lo scaricano e caricano, al limite, ti danno, se hai il tuo magazzino, prendi il traspare elettrico, io il traspare elettrico, odio, uso mano a mano, io uso sempre il traspare a mano, ma fatti, no, andando nelle aziende piccole, se fai i collettami, raccolte e distribuzione, ti devi anche, dar da fare, ma se fai il magazzino, magazzino, magari devi, scambiare i semirimorchi, o le casse, ecco, quello di sì, se fai il lavoro di casse mobili, magari ti raggiù i piedi, così non è neanche, leggerissimo, come lavoro, però, se fai i container, dica cosa che devi applicare, accrociare, girare i twist, poi, ti mettono sui container, la cosa che devi avere, necessariamente in questo lavoro, ma lo devi avere, è la pazienza, la pazienza, nelle aziende, se tu vai là e fai il casino, è peggio, ma magari vedi che ti fanno aspettare tanto, vai e chiedi con educazione, scusa, perché se te vai là incazzando, tranquillo che ti fanno star lì un'ora in più ancora, visto fare, visto fare, quindi te vai là tranquillo, e poi dici, ma, ah sì, no, aspetta che chiedo, ah no, va bene, va bene, educazione, nelle aziende ci vuole, educazione e pazienza, è un bestorrisco, buongiorno, buonasera, quando arrivi, e vedi che poi ti idrattano anche bene, se non così, e questo, vale sempre per gli uomini, che per le donne, vale per tutti, l'unica cosa, che adesso, sta diventando veramente un problema, è che nella maggior parte delle aziende, non ti lasciano più andare nei servizi igienici, per la storia del Covid, non puoi entrare, teoricamente dovrebbero mettere un bagno a disposizione, degli autisti, in alcuni posti c'è, in tanti altri non c'è, e lì scatta la fantasia, gli uomini non hanno più di tanti problemi, le donne qualcuno in più sì, è così, ho parlato troppo, mi piacerebbe se ci fossero più colleghe, se no non so come mai, cioè se leggi sui giornali, sembra che aumentano, anche qualche lama, poi quando ti guardi in giro, negli altri camion non le vedi, qualche straniera, di quelli che viaggiano in coppia, marito e moglie, o coppie così, sì, sì, li vedo, quelli che fanno internazionale, mi aggibili, e poi si vanno in coppia, ma vedo anche, a tutti i due uomini, però, una volta ne vedevo tante, di donne che viaggiavano con il camion, sinceramente, poi, ora sì che sia io, che faccio tratte dove, dove non ce n'è, benissimo che sono così, però, notate che, cioè, non dico che una volta tutti i giorni, qualcuno la incrociava, tutti i giorni, tutti i giorni, adesso no, adesso se ne incrocio una alla settimana è tanto, poi magari incrocio la mia amica, nella mia zona, e gira lì, allora, capita che la trovo, ma, anche quando facevo queste strade, quattro ore, incrociava sempre una ragazza con un Mercedes, ma adesso non la vedo più, perché non aveva il baracchino, quindi, non ha mai potuto parlarci, adesso non la vedo più, ragazze, prendete la patente, guidate i camion, che avranno bisogno di autisti, fra un po', se ci fossero più donne, forse, non lo so, ma magari andrò meglio le cose, ce lo sa, adesso mi diranno che sono femminista, ma un pochino, un pochino, un pochino, io quando ho iniziato, no, prima di avere la patente, che andavo in giro con il mio moroso, e parlavo al baracchino, con altri camionisti, e loro gli dicevo, io farò la patente, io i Biderono, ma non avevo ancora l'età, perché non avevo ancora 21 anni, per i tempi, o facevi, potevi farla a C prima dei 21, o devi fare anche il K, io gli aspetti 21 anni, no, e allora parlavo al baracchino, così, non avevo 20 anni, e parlavo al baracchino, tutti mi dicono, ma te sei matta, ma non è un lavoro da ragazze, le ragazze devono stare a casa, devono sposarsi, fare i figli, fare qua, fare là, non va, ma chi te lo fa fare, è pesante, è scomodo, e poi sei in giro, e poi questo, e poi... e gli dice, ma scusa, ma tu perché lo fai allora? Eh, ma io sono un uomo, nel senso che lui arriva a casa, arrivi a casa, è finito, cioè nel senso che ti fa tutto la moglie, ti lava, ti stira, ti prepara da mangiare, tutto quello che ti serve per la settimana, poi tu te ne riparti e te ne vai, ma tu cambierai se no, nessuno di loro avrebbe cambiato il vestito, che gli piaceva, però, se sei una donna, no, ma era così, eh, ma magari mi è capitato anche di trovare qualche autista anziano, che mi diceva, sai, io negli anni 60, avevo mia moglie dietro, aveva la patente anche lei, veniva con me, qua là, non mi raccontava, però, perché l'aveva fatto per qualche anno, poi era rimasta a casa, perché dopo l'hanno avuto figli, questo e quello, a me è capitato anche dopo la scena, mi ricordo di uno, che mi aveva raccontato, che si erano fermati in area di servizio, sono, mi era restata, faceva caldo, ne aveva i cazzo vicini forti, ed era sceso ad andare in bagno, e tornando verso il camion, c'era uno che l'aveva importunata, no, continuava a dargli dietro, e praticamente quando è arrivato alla cabina, che è aperto, questo qua era lì, che gli rompeva le scatole, e lui era in cabina sdraiato, e gli ha tirato un cartone, e invece così impari, lei dice, lasciami stare, lasciami stare, questo insisteva, non tirava le scatole, quando è arrivato alla cabina, che continuava a farlo stupido, lui dalla cabina ha sentito, ah, quel cartone sul naso, non risolto il problema, è così, adesso vi saluto, scusatemi, i discorsi così a, a random, come dicevo una volta, un po' di discorsi a random, e via, sto attento alla strada, ciao, bye, buona strada, occhio vivo sempre, mi raccomando, con, la responde, bisitò, Grazie.